Un incendio ha interessato un noto bar e rivendita tabacchi di Marcellinara, comune del Catanzarese. Potrebbe esserci la mano del racket. Dietro all'incendio, sull'accaduto, stanno infatti intagando i carabinieri della stazione locale e della radiomobile del capoluogo a cui spetterà il compito di accertare l'esatta origine del rogo. Al momento di fatti, nessuna ipotesi viene esclusa. Sul posto, intorno alle 3.40 della notte, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale con il supporto di un autobotte per il rifornimento idrico e che hanno appurato come le fiamme avessero interessato la serranda esterna del locale, così come il portoncino di ingresso in legno. Danneggiato anche un distributore automatico di tabacchi, che era all'esterno del locale. I pompieri hanno estinto completamente l'incendio e messo in sicurezza il luogo.